Nell'ultima settimana il numero di casi totali nel nostro Paese è leggermente diminuito. Naturalmente continua la circolazione virale, tant'è vero che gli RT tendono ad aumentare o a diminuire a seconda di dove si formano i focolai. In alcune regioni il numero di casi purtroppo è ancora abbastanza rilevante. Naturalmente la comparsa di focolai che vengono però rapidamente contenuti sta ad indicare che c'è una continua circolazione virale per cui bisogna continuare a mantenere i comportamenti adeguati e soprattutto portare mascherine quando ci si trova in luoghi pubblici e mantenere il distanziamento sociale.